Ciao a tutti, l'argomento di oggi è sostanzialmente un approfondimento sulla questione della reazione di indotto che abbiamo già un pochino trattato nella lezione sul trasformatore ideale a vuoto a carico, però confrontandoci un po' con i ragazzi di quarta con cui l'argomento è stato fatto nella mia classe, mi è sembrato che l'argomento reazione di indotto sia un po' poco assimilato e quindi volevo fare un minimo di approfondimento sull'argomento, anche perché la reazione di indotto è un argomento importante che riguarda tutte le macchine elettriche e non solo il trasformatore, quindi se uno la inquadra, la metabolizza in maniera adeguata sul trasformatore che è la macchina più semplice e poi può tranquillamente applicare alcune di queste nozioni alle macchine elettriche più complesse come motori, generatori eccetera, perché tutte le macchine elettriche seguono leggi di fare dei Neumann-Lenz, sono tutte dei mutui induttori e quindi tutte sono sottoposte al fenomeno della reazione di indotto. Il fenomeno della reazione di indotto che in buona sostanza deriva proprio dall'ossequio della legge di fare dei Neumann-Lenz. Noi abbiamo detto che tutti i circuiti elettrici che sono comunque sottoposti a un flusso che per una ragione qualsiasi è variabile diventa sede di una forza elettromotrice i cui effetti sono sempre e comunque tali da opporsi alla causa che li ha generati. Questo capita in trasformatori, capita in tutti i mutui induttori perché abbiamo già detto, lo ripetiamo, tutte le macchine elettriche sono dei mutui induttori e capita ovviamente che è nel trasformatore che è l'argomento di oggi. In generale però la reazione di indotto è un fenomeno un po' più complesso perché comprende fenomeni elettromagnetici ma anche meccanici perché nei motori ci sono ad esempio le coppie resistenti eccetera eccetera. E tutti questi hanno la caratteristica di manifestarsi quando il circuito di indotto può essere attraversato da una corrente che è prodotta dalle forze elettromotrici indotte. Quindi ovviamente le correnti possono passare se il circuito è chiuso, quindi se non siamo nelle condizioni di funzionamento a vuoto. In caso del trasformatore, se il secondario aperto non passa corrente e gli effetti della reazione di indotto sono nulli, se lo chiudo su un carico ecco che questi effetti si possono manifestare. Ovviamente il trasformatore è una macchina statica, non ci sono movimenti, non ci sono coppie, gli effetti sono esclusivamente di tipo elettromagnetico e riguardano sostanzialmente il flusso e le forze elettromotrici. Quindi nei prerequisiti ricordatevi anche di aver ben presente cosa dice la legge di Hopkinson, il concetto di riluttanza eccetera eccetera. Allora vediamo un po' di fare l'esempio classico. Ci rialacciamo alla teoria del trasformatore ideale a carico. Sappiamo che la circolazione della corrente I2 manifesta questo fenomeno della reazione di indotto. Noi abbiamo studiato il trasformatore ideale a carico con le classiche equazioni di Kirchhoff alle maglie, sulla maglia primaria, sulla maglia secondaria, dove sulla maglia secondaria c'è anche l'impedenza, perché se io collego l'impedenza al carico ecco che si manifesta una corrente I2 che fa tornare i conti anche sulle forze elettromotrici e sulle tensioni che sono uguali, perché V2 è uguale a I2. Ricordiamoci che I2 dipende oltre che da E2 che a sua volta dipende dalla tensione di alimentazione e da E1 anche dall'impedenza del carico. Ovviamente se non sapete come funziona il trasformatore ideale andate a rivedervelo. Qui facciamo un focus, un approfondimento sul concetto della reazione di indotto. Allora vediamo un pochino. Un primo approccio, quello classico che si vede anche sul libro di testo che io sto seguendo da qualche anno, che è il Conte in Pallomeni della Epli, fa un'ipotesi che, ovviamente come tutti gli studi del trasformatore ideali, che la riluttanza magnetica sia nulla. Questo comporta una cosa, se la riluttanza magnetica è nulla, allora deve essere nulla la forza magnetomotrice totale che applicata al circuito magnetico, perché altrimenti avrei un cortocircuito magnetico, cosa che è con un flusso che tende ad andare ad infinito, cosa che non può essere. Quindi, partendo da questa ipotesi che, avendo una riluttanza magnetica nulla, deve essere nulla la forza magnetomotrice totale, è ovvio che qua abbiamo due forze magnetomotrici. Una prodotta dalla corrente che circola sul secondario, perché ho messo un'impedenza di carico, e ci deve essere una nuova corrente I1 che creerà una forza magnetomotrice N1 per I1 vettore, che farà equilibrio alla N2I2. Questo è un po' il cuore della questione. La corrente primaria che viene assorbita in più rispetto al funzionamento a vuoto nel trasformatore serve a controbilanciare gli effetti della corrente indotta sull'avvolgimento secondario. Ed è una relazione tipicamente vettoriale, perché le correnti sono grandezze sinusoidali, quindi è una direzione che impone una direzione anche alle forze magnetomotrici. La cosa interessante è che qua si può vedere che da questa relazione esce sicuramente questa saltra, quest'altra, che ci dice che le due forze magnetomotrici sono in opposizione di fase, e quindi siccome N1 ed N2 sono grandezze scalari, vuol dire che i due vettori N1 ed N2 sono in opposizione di fase. Questa è una cosa molto interessante che poi vedremo. Poi ovviamente si può anche passare al calcolo con i moduli, che è sempre più semplice, quindi il rapporto fra i moduli di I1 e I2 è uguale al rapporto fra i moduli di N2 ed N1. E quindi la mia famosa corrente I1 di reazione primaria, cioè la corrente che si oppone all'effetto magnetico di I2, in modulo è uguale a I2 per il rapporto fra N2 ed N1, l'inverso del rapporto di trasformazione. Questo è importante e fa tornare i conti anche con un approccio di tipo più, fra virgolette, energetico allo studio del problema, che ripeto, nella sua sostanza è giustificare perché quando ho una corrente I2 che circola sul secondario, ho una corrente I1 che tende ad annullare i suoi effetti. Ovviamente più cresce l'I2, più cresce l'I1. Se I2 diminuisce, diminuisce I1. Al limite se I2 si annulla, si annulla anche l'I1 e cadiamo nel caso del funzionamento a vuoto, in questo caso ideale. Quindi se noi abbiamo il nostro diagrammino vettoriale con il nostro flusso, con la nostra corrente di magnetizzazione che consideriamo pressoché nulla o nulla, le nostre due forze elettromotrici indotte sui due avvolgimenti N1 ed N2, la nostra tensione di alimentazione, ecco che abbiamo che la corrente I2, che supponiamo sia in ritardo, supponiamo un carico dipomico induttivo, fa circolare nel primario una corrente ovviamente opposta in termini vettoriali. E in termini di modulo ovviamente si può calcolare con il discorso che abbiamo fatto. Qui abbiamo ancora una relazione vettoriale, ma si può mettere tranquillamente con i moduli, come abbiamo fatto nella slide precedente. Poi ovviamente c'è anche un approccio energetico legato alla conservazione della potenza apparente che viene trasmessa al carico che deve essere equilibrata alla potenza apparente che viene fornita dal generatore. E questo ci permette di fare l'ultimo ragionamento che vediamo. Ma prima volevo farvi vedere un secondo modo di approcciare la questione che è quello un po' classico. Io mi ricordo tanti anni fa sul testo classico di una quarantina d'anni fa che era l'Olivieri Ravelli, testo storico degli istituti tecnici italiani, si faceva un ragionamento, che è sostanzialmente la stessa cosa, non parliamo di cose diverse, sulla necessità di mantenere il flusso costante. Allora, qual era la questione? La questione era che se la tensione di alimentazione era costante ed era uguale alla forza elettromotrice indotta E1, e siccome E1 è proporzionale al flusso massimo che circola nel nucleo, siccome la tensione di alimentazione è costante, allora deve restare costante anche il flusso magnetico, perché noi sappiamo che esiste la nota relazione che dice che la forza elettromotrice indotta, in questo caso nel primario, è 4,44 volte il numero di spire per la frequenza e per il flusso massimo. Ora, questi tre termini sono evidentemente costanti, e se noi ipotizziamo giustamente che la tensione di alimentazione sia costante, deve essere costante anche la FM indotta E1, e questo implica che il flusso non può variare. Quindi, un approccio, praticamente stiamo dicendo la stessa cosa in termini pratici, però un approccio un po' diverso che non scomoda calcoli vettoriali e dice guarda che se tu non cambi la tensione di alimentazione il flusso non può variare. Ora, è evidente che se c'è una corrente sul secondario il flusso tende ad essere modificato, perché la forza magnetomotrice secondaria tende a modificare il flusso in ossequio appunto alla legge di Lenz, perché tende ad opporsi alla causa che l'ha generati. Quindi, cosa succede? La costanza del flusso è possibile solo se nel primario si manifesta un'altra corrente, una corrente supplementare, che compensa gli effetti di I2. Secondo a questo punto ho la notissima relazione per cui N1-I1 deve essere uguale a N2-I2. L'ho messo tranquillamente in modulo senza scomodare i calcoli complessi, ma è evidente che I1 deve essere in opposizione di fase, perché qui c'è anche un discorso vettoriale a tenere in campo. E questo è un secondo approccio, sostanzialmente non è diverso dal primo, un po' più classico. Un altro approccio, anche quello di dire, guarda che se tu stai erogando al carico una potenza apparente, V2-I2, per giustificare la presenza e questa potenza I2, tu devi metterti in testa che questa potenza da dove la prende il trasformatore? Ma la prende dalla rete, cioè dall'alimentatore, dal generatore che alimenta il trasformatore. Allora, se aumenta la corrente che il trasformatore eroga al carico aumentando la corrente secondaria, è evidente che il trasformatore deve assorbire una potenza in più dal primario. E quindi, siccome la tensione d'alimentazione la supponiamo costante, questo è possibile solo se c'è una corrente I1, che sia tale per cui la potenza apparente che entra nel trasformatore, che è V1 per I1 con V1 costante, è uguale alla potenza apparente S2 che trasmetto al carico, che è uguale a V2, che ipotizziamo costante anche lei, perché la tensione d'alimentazione costante è il sistema ideale, ed è abbastanza ovvio che se aumenta questo punto la I2 non può che aumentare anche la I1. Se la potenza si annulla, cioè se la corrente erogata al carico è 0, cioè se siamo a vuoto, ecco che si annulla anche la I1. Cioè I1 e I2 variano proporzionalmente per far tornare i conti sulla potenza apparente in gioco. Ricordiamoci, questo è un approccio su un trasformatore ideale che rende tutto più semplice. Però è importante ricordarsi che in generale nei sistemi elettromagnetici quando aumenta la corrente dell'indotto tende ad aumentare anche la corrente sull'induttore. E questo è un approfondimento secondo me abbastanza interessante sulla reazione d'indotto che male non ci fa. Ovviamente qui abbiamo anche un altro paio di formule per cui V1 su V2 uguale a I2 su I1, che è un modo classico anche di mettere in evidenza le classiche relazioni per cui se siccome il prodotto tensione corrente deve restare costante nel trasformatore ideale è ben inteso. Allora, se passando dal primario al secondario la tensione tende a diminuire, cioè se V2 è più piccola di I1, allora I2 è più grande di I1. Questo è un classico che si spiega anche qua in maniera semplice con un approccio chiamiamolo un po' energetico. Va bene, direi che è tutto, mi sembrava interessante fare questo approfondimento e non posso che augurarvi un buon lavoro. Grazie a tutti.